La situazione dell'aeroporto di Grottaglie è insostenibile, nel senso che da più parti si levano voci per un pieno utilizzo e non soltanto per il trasporto di merci, ma soprattutto di passeggeri. Vari associazioni si sono riunite oggi, l'avvocato Nicola Russo per Taranto Futura, ma anche come Codacons, come consumatori. A giorni noi presenteremo una denuncia alla procura della Repubblica di Taranto per far evidenzare queste omissioni, perché la legge nazionale e la legge comunitaria dicono che gli aeroporti devono essere aperti. Siccome l'articolo 16 della Costituzione tutela la libertà di mobilità del cittadino da una parte e dall'altra pone dei limiti alla discrezionalità della politica, allora c'è qualcosa che non va nella regione Poglia e nel territorio di Taranto. Chiederete il sequestro? Noi presenteremo la denuncia alla procura della Repubblica perché riteniamo che ci siano parecchie omissioni e parecchi sviamenti di potere e chiederemo anche il sequestro preventivo dell'aeroporto di Grottaglie perché il cittadino non ha la possibilità un giorno di poter usufruire dell'aeroporto di Grottaglie quando ha tutti i diritti possibili ed immaginabili. Tra le varie proposte emerse dall'Assemblea anche una provocazione. Chiederemo a breve ai consigli comunali della provincia di Taranto di pronunciarsi sul referendum per il distacco della provincia di Taranto dalla regione Poglia e l'aggregazione alla regione Basilicata. Questo sarebbe veramente utile e necessario per un diverso sviluppo economico del territorio ionico lucano e quindi sarebbe utile per uno sviluppo economico alternativo a quello della grande industria, sviluppo diretto appunto al turismo e all'agricoltura. Tenete presente che l'aeroporto nasce per far sviluppare un territorio, non per farlo morire.